Grazie a tutti. Quindi siccome tutta la rete di informazione si gioca sui contatti, mettiamo insieme i contatti, questo può essere già una cosa utile, poi per sopperire ai meccanismi della comunicazione che sono quelli che sono, ci siamo detti e va bene. Però ogni regione, perché anche altri come la Toscana o se non sono regioni come la Sicilia o la Lombardia che investono anche tantissimo in fortissimi quotidiani loro, c'è veramente un problema molto importante per far emergere i fatti a livello nazionale, però ci siamo detti le cose più importanti. Invece una cosa che mi avete chiesto è come si gestisce, chi è il portavoce, qual è la figura, come si distingue, che cosa fa. Ogni personaggio pubblico può dotarsi di un portavoce che è diverso dalla figura del capo ufficio stampa di cui parlavo l'altra volta perché ha un ruolo diverso. Il portavoce è l'ombra totale del ministro, del presidente del consiglio, del cantante ed è quello che è detta la linea politica e la linea di comunicazione del personaggio. Perché è fondamentale che un personaggio pubblico si doti e investa nella sua comunicazione? Perché l'improvvisazione fa dei danni terribili. I grandissimi personaggi pubblici che hanno deciso inizialmente di andare nell'arena mediatica senza una decisione che fosse dal look che hai alle dichiarazioni che devi fare hanno avuto delle grandissime ritorsioni a livello di immagine ma che se tu fallisci a livello comunicativo puoi fallire nelle lezioni, puoi fallire nella tua azienda, puoi fallire su piani abbastanza importanti. Per cui diciamo che è una figura che è nata piano piano ed è immersa soprattutto nel panorama mediatico, politico soprattutto, sono nati dal berlusconismo in poi, queste figure che sono proprio attaccate e seguono il personaggio. Che cosa fa il portavoce? Facciamo un esempio concreto. Ti nominano presidente del consiglio. Dal momento in cui ti nominano, a parte che diventi un personaggio pubblico, nel giro di dieci minuti devi fare o una conferenza stampa o una dichiarazione o ti devono vedere, devi dare già un messaggio forte. Di conseguenza decidi di investire tutto te stesso, per cui il ruolo del portavoce è di veramente forte empatia con il personaggio con cui lavori. Questo a volte è difficilissimo perché tu, nell'esperienza che ho avuto, piano piano impari a conoscere anche le difficoltà del tuo assistito, i problemi che ha, le carenze, dove rende di più, dove rende di meno. Quindi all'inizio diciamo che quando ti affidano un personaggio, se tu non lo conosci, è veramente tosta valutare dove può riuscire di più, se in una trasmissione televisiva, in un programma radio, in un'intervista. Quindi all'inizio provi e nella prova è tutto molto complicato. Un esempio che è stato forse sotto gli occhi vostri, che posso fare, è quello del ritorno sul Presidente del Senato, Grasso. Viene nominato nel giro di, nemmeno di una settimana, cominciano gli attacchi del mitico Travaglio e si ritrova, conosco bene il suo portavoce, è un mio amico, si ritrova a gestire, uno che era il procuratore antimafia, viene eletto nel giro di, comunque cambi il ruolo, non fa in tempo a diventare la seconda carica dello Stato, quindi tu devi avere visione di chi è di fronte, di chi stai gestendo. Infangato, una delle scelte comunicative fatte inizialmente, che sono state subito criticate, è che Grasso ha chiamato in trasmissione per difendersi. Allora, partiamo dal principio, ti affidano un personaggio, tu fai più o meno fatica in un secondo, in due giorni per capire, ah, è la seconda carica dello Stato, ti ritrovi infangato, devi subito fare delle scelte mediatiche forti perché ti stanno attaccando, decidi di fargli fare una telefonata in trasmissione. Ora, nell'obiettività della cosa, anch'io, avendo fatto questo lavoro prima, ho pensato, è stata una scelta azzardata perché chiamare in trasmissione, chi ti fa pensare che chiama in trasmissione? Berlusconi. Quindi, diciamo che Grasso è su un livello totalmente diverso, è un personaggio che dà una statura, insomma, elevatissima, che ha fatto un percorso e un curriculum totalmente diverso, quindi vedi come la scelta mediatica subito si è ritorta contro il portavoce che dice no, non lo sai gestire perché ne ha fatto fare la telefonata. Quindi ha un ruolo anche fondamentale nella prima scelta. Grasso non è più uscito da nessuna parte, se avete notato, nel giro di questa settimana. Quindi abbassiamo i toni, calmiamoci, vediamo quali sono le prossime uscite da fare. Oggi è stato all'Aquila ed è uscito oggi con l'Aquila. Però l'uscita istituzionale, quindi la stessa cosa che avevo detto io, guarda, devi subito renderti conto che la seconda carica dello Stato non ha bisogno di telefonare in trasmissione, perché se la seconda carica dello Stato sei un personaggio che veramente, insomma, per attaccarti quello ha dovuto studiare, non lo so da quanto tempo, per cui ci poteva essere un altro filone comunicativo che tu potevi scegliere per rispondere anche con, non so, possono nascere varie cose, e tu puoi decidere di fare un articolo il giorno dopo che è molto più sobrio e molto più istituzionale. Quindi a seconda della cosa che se vi ritroverete a gestire un personaggio, la prima cosa che vi consiglio in assoluto è che dovete avere visione di chi state gestendo, che sia l'imprenditore, che sia il sindaco del paese, che sia l'assessore del paese, che sia il cantante famoso del paese o della Puglia o a livello nazionale, dovete sapere che a seconda di chi è dovete gestirlo comunicativamente. Quindi se tu sei la seconda carica dello Stato non hai bisogno, cioè dobbiamo fare un esempio concreto, di telefonare in una trasmissione, perché ti puoi gestire questo in una maniera diversa. Così grandi figure che sono state fatte, per farvi capire il ruolo fondamentale, tanti elogi ha ricevuto Renzi nella gestione sua comunicativa, della sua portavoce, che hanno deciso di costruire un personaggio all'Obama, e su lui ha funzionato, su Monti no, per dirti, è stata una cosa diversa, totalmente diversa. La scelta per esempio di Monti durante un anno, che io ho apprezzato da parte della sua portavoce, è stata quella che tu vieni chiamato come il tecnico che salva, tra virgolette, d'Italia, in una situazione in cui Berlusconi ci aveva lasciato, la portavoce decide che per un anno lui fa il Presidente del Consiglio di un governo tecnico, non scende mai nell'arena mediatica, non va mai a Ballarò, per dire Ballarò come non è andato mai in una trasmissione. Le uniche comunicazioni che voi avete visto di Monti, del Presidente del Consiglio, sono state di lui che va in conferenza stampa al Palazzo Chigi e basta. Massimo sono state delle interviste ai TG a margine, ma tutto è stato contenuto ed è una comunicazione che secondo me rispetto al personaggio e al periodo storico che stavamo vivendo è stato di una sobrietà eccellente, nel senso che noi non venivamo da una tortura mediatica di prima, che era, lo vediamo dappertutto, ovunque, ogni giorno c'era un caso rubi da sfasciare, c'era quello, c'era quell'altro, una dichiarazione, una battuta, quindi perennemente il Presidente del Consiglio, che è il Presidente del Consiglio, quindi parliamo di una carica altissima, era diventato un po' alla merce di tutti, invece abbiamo ritrovato una sobrietà istituzionale che io da comunicatrice ho detto mi è piaciuta, cioè ha funzionato, poi appunto abbiamo visto l'altra volta che è diverso poi dalla comunicazione politica in campagna elettorale, per cui su Mario Monti non hanno funzionato i canoni della comunicazione elettorale, dove invece ha rivinto chi la comunicazione politica ce l'ha nel sangue, quindi è Berlusconi, non è nemmeno Bersani, quindi anche lì c'è una differenza, una difficoltà di comunicazione, è un lavoro che secondo me, per esempio se vogliamo parlare di grandi personaggi politici, anche su Bersani c'è una difficoltà nel comunicare di quest'uomo che è abbastanza imbarazzante, però non c'è secondo me una cura sul personaggio, così come sono state delle scelte così nette, per esempio su Berlusconi, dove il suo portavoce storico Bonaiuti, è vero che ne ha viste e ne continua a vedere di tutti i colori, però hanno avuto un'efficienza nella gestione del personaggio che è risultata, quindi tu diciamo la prima cosa nei primi passaggi, chi hai di fronte, come lo studi, in che cosa può funzionare e poi decidi da subito che linea comunicativa questo personaggio che tu stai gestendo vuole avere e questo lo fai in stretto contatto con lui. Per esempio ricordo quando è arrivato nel cambio il ministro Profumo, nella prima riunione di comunicazione, quindi la prima in cui ci siamo incontrati, lui ha detto voglio essere il ministro del dialogo, lui ti dice una frase che tu su quello devi impostare tutta la comunicazione, di lì è uscito solo con dichiarazioni, abbiamo fatto uscire solo con dichiarazioni, voglio incontrare gli studenti, voglio incontrare i ricercatori, voglio incontrare... e quindi si è creata la linea, a seconda della sua agenda politica, si inseriva il messaggio mediatico, diciamo, quindi vuoi essere quello del dialogo? Allora però questo deve corrispondere ai fatti, quindi tu devi incontrare i studenti, tu devi incontrare i ricercatori, devi incontrare i precari della scuola e quindi costruisci un'immagine di questo tipo. E la stessa cosa la fai su un personaggio pubblico come può essere, che ne so, Vasco Rossi o giovanotti, hanno degli storici portavoce, cioè per esempio la Sax è ancora la storica portavoce di Vasco Rossi e per cui nelle mani del portavoce tu affidi completamente tutta la gestione giornaliera di quello che accade. Quindi che cosa fai? Tu dalla mattina segui tutta la giornata politica se gestisci un politico, quindi decidi se, oppure se gestisci un cantante, per esempio Giovannotti non si è voluto inserire nel dibattito politico durante la campagna elettorale, però ha deciso di parlare dopo la campagna elettorale, è stata una scelta comunicativa fatta e dettata con i criteri che lui si è creato, però crei così la comunicazione. Stessa cosa appunto lo fai con un personaggio politico, tu la mattina lo segui oltre a seguire la sua agenda, segui le notizie, le varie agenzie, se succede una cosa decidi di entrare nel dibattito o di non entrare, di partecipare a un evento, di non partecipare, tutto quello è una scelta del portavoce. Quindi se il portavoce decidi che tu non devi andare alle riunioni coi sindacati perché è una scelta, non parla coi sindacati, è una cosa che poi comunicativamente emergerà. Per esempio, una cosa che non scorderò mai con la Gelmini è che il portavoce era terrorizzato che dovunque andasse venisse insultato oltre che menata, eccetera, perché comunicativamente ed è questa una cosa che il PDL ha fortemente in testa, tu non devi mai uscire sui giornali che tu sei contestato o sei fischiato. Una cosa che ho imparato dal metodo PDL che mi porto dietro è che se tu stai in una conferenza stampa o in un evento pubblico e vieni contestato e sui giornali esce quello, la tua immagine escerà solo quello, perché per il giornalista basta un fischio, sempre per i meccanismi che ci siamo detti prima. E sti cavoli che tu hai fatto un discorso figo, ora nel suo caso non è. Però emerge che il fischio era più importante dell'evento e quindi un lavoro che il portavoce faceva era quello di bonificare, tra virgolette, la zona. I posti dove dovevi andare dovevano essere sicuri, non che debbano essere totalmente sostenitori, però fondamentalmente ci doveva essere una scelta. E tu devi pensare appositamente a tutto questo, che era un'angoscia terribile per me che doveva andare, che dovevo scacciare i precari, o quello che si alzava e la voleva menare. Tu dici che faccio, mi butto addosso, una volta che è successo, è successo, c'era la televisione e tu non è che puoi andare al giornalista e dire no, non lo scrivere. Però per esempio una cosa che invece mi è capitata e l'ho pensata con il presidente Monti, invece lui andava a nozze se lo contestavano, perché i ragazzi l'hanno contestato in una in una riunione e lui, tranquilla con la sua sobrietà da professore, diceva ok, che bello, mi contestate, ci avete anche ragione, perché stiamo vivendo questa situazione e i contestatori rimanevano scioccati, come abbiamo ragione? Sì, venite qua, vi faccio parlare. E diventava anche, anzi, dopo che finisco questa cosa, ci vediamo, mi lasciate i vostri recapiti e io cerco un contatto con un altro personaggio, come per esempio il ministro Germini, era improbabile, cioè se c'era una situazione in cui venivi contestato il contestatore doveva essere buttato fuori, quindi anche lì c'è una gestione totalmente diversa. Così come gestire un personaggio pubblico significa gestire le dichiarazioni che deve fare e quindi la risposta giusta se succede una cosa, quale deve essere? Perché poi tutti dicono, ammazza che cosa figa che ha detto, oppure ammazza ma succede una cosa del genere, perché c'è il silenzio del ministro dell'istruzione se hanno ammazzato un bambino a scuola per esempio? No, è impossibile, là deve essere tempestivo il portavoce che deve dire, ministro è successo un incidente a scuola, lei deve parlare, quindi devi essere completamente sul pezzo sempre attivo e soprattutto devi decidere le cose che funzionano cuscite addosso al personaggio, per esempio dalla mia esperienza Gelmini riusciva di più in un'arena dove si buttava in cacciara tutto perché lei urla, si butta in cacciara, non si parlano dei contenuti, funziona, va bene, in un momento in cui invece il dialogo era più calmo, più netto e c'era un faccia a faccia, che ne so, otto e mezzo dalla Gruber, se tu dici una strunzata e si vede che hai detto la strunzata, cioè non è che la si butta in cacciara in qualche modo e quindi anche lì decidi quando far accettare un invito della Gruber, quindi è difficilissimo perché a seconda del momento storico che vivi, quindi a seconda di quello che succede, tu decidi poi concretamente di inserirti nel dibattito, io ho apprezzato molto come vi dicevo che Monti non sia mai andato a Ballarò e la scelta fatta da tutta la linea dei ministri tecnici era quella che proprio centellinando le uscite a Ballarò, tant'è che Floris a un certo punto chiamava disperato, diceva ma qua chi vengo, io mi so scocciato, è un anno intero che vado avanti con gente della società civile, però noi abbiamo bisogno di interfacciarci col governo, però era una scelta ed è stata anche una disintossicazione dalla cacciara generale, perché poi è così, il dibattito nei grandi talk come può essere Ballarò diventano cacciare e non diventano mai contenuto, quindi anche lì noi ci siamo disintossicati per un anno ma siamo ritornati tale quale a prima, cioè adesso c'è quello che si vede in televisione esattamente quello che si vedeva prima e anche forse peggio per tanti aspetti perché siamo anche più incazzati e i toni sono anche più alti, quindi e come decidi per esempio come si costruisce, cioè non è che tu, allora ti chiamano, ti chiama Floris o ti chiama la Gruber e decide di invitarti, come la costruisci la puntata? Perché il portavoce deve anche costruire la puntata, tu medi continuamente con il team della redazione che ti dice, vabbè noi vogliamo invitare il ministro a parlare in una puntata di economia, ma di economia il mio ministro si occupa di istruzione, forse non è il caso, capisci che è una trappola, dici no, forse non è il caso, perché mi volete invitare, facciamo solo una figura, eh vabbè ho capito però l'istruzione non tira, parliamo della scuola i primi cinque minuti e però poi si parla di economia, ho capito, ma se poi stessa cosa che è successo a Grasso per dire, cioè a parlare di economia rispetto a parlare di giustizia e di mafia e quindi lì devi essere bravo a capire che domande e che temi tratteranno per farti dire poi più o meno i servizi che faranno durante la trasmissione, perché non conta solo sapere chi sono gli altri, diciamo, della trasmissione, conta sapere anche le domande, non ti dico le domande che faranno, però i servizi che ci saranno, perché dai servizi tu capisci che domande ci saranno e quindi appunto se la puntata è economica è inutile che vai a infognare quello, per esempio con Gelmini sono state proprio studiate a tavolino le puntate, cioè non si poteva azzardare su un personaggio simile che era diverso Floris da Vespa, perché con Vespa tu riusci a dire no, tu questo non glielo puoi chiedere perché, cioè un Floris ti diceva questo non glielo posso chiedere, ma io chiedo cinque volte durante la trasmissione, poi lì appunto sta tantissimo al portavoce, a chi lo gestisce, mediare con la redazione e per questo è una questione continua di contatti con i giornalisti che non devi mai perdere e in più puoi comprarti anche portando tu delle notizie, nel senso che ok, certe volte è necessario per un grande personaggio politico o anche un cantante che vuole riemergere, per esempio la Nannini farà il tour il prossimo fine settimana a Roma, è stata bravissima, ho notato, in questa settimana ha fatto delle dirette anche col Corriere, per l'è uscita come l'inno del PD durante la campagna elettorale, però è riuscita a rimpassarsi il tour facendo anche un'intervista col direttore, cioè ha lanciato su Corriere.tv che è stata una cosa che, insomma la Nannini più o meno ha già detto tutto, non è una che come Giovanotti sfonda e c'ha il singolo figo ogni mese, cioè sta in top ten, no, però è riuscita a rilanciare un tour e a riempire, insomma probabilmente, almeno così come dicono, il pala lottomatica prossimo, insomma nel prossimo weekend, quindi decidi esattamente come uscire, che cosa inventarti, queste sono tutte idee genialate che deve avere il portavoce, quindi ha una responsabilità incredibile e ci sono stati dei grandi fallimenti, di grandi personaggi dovuti al portavoce. Se pensiamo che il governo Prodi fondamentalmente è caduto perché il suo portavoce Sircana non è stato capace di dire all'Italia che il governo Prodi in quella fase stava facendo delle scelte economiche fondamentali dell'Italia, di cui avremmo pagato, però erano fondamentali ed erano in una direzione che casomai il PDL non ci avrebbe mai portato, lì insomma stiamo parlando di un fallimento che non è solo mediatico su un personaggio che è già insomma tosto su cui lavorare, perché si addormenta mentre parla, quindi è già difficile, quindi tu devi studiare anche quello, così come noi studiavamo che Monti leggeva le carte e quindi non guardava mai la telecamera e tu devi dirgli no, non devi leggere le carte, devi guardare la telecamera, le carte le leggi prima o dopo, però sono tutte cose che devi rimpinzare e ridire ogni volta. Però appunto, siccome il portavoce è detta anche la linea politica, se ci sono dei fallimenti grandi dovuti alle scelte, a volte è anche quella del portavoce, per cui è una responsabile, oltre alle sue vicende private. Ma sì, no, diciamo che a parte diciamo questo, il fatto è che effettivamente in quella fase, ed è stato un caso che noi abbiamo studiato politicamente nel momento in cui, perché anche per esempio io questo il mestiere l'ho imparato sul campo e tanti trucchetti comunicativi li impari sbagliando totalmente, sbagliando in maniera anche eclatante, ed è una responsabilità perché poi se gli fai dire una cosa, non è che finisce e finisce su Corriere, finisce su Repubblica, insomma c'è un'ansia pazzesca, così come tu ti ritrovi che si dimette il Papa, Monti deve parlare e deve dire una frase che non è cacchio, successo, no, cioè deve essere quasi più intelligente, quindi vabbè, devi romanzarla, devi pensarla, devi pensare che in quel momento, cioè la prima cosa che ho pensato, così come appunto vi dicevo nel caso di Grasso, è che a parlare era il Presidente del Consiglio e non uno in campagna elettorale, quindi ci doveva essere un'elevatura di discorso che insomma, cioè non poteva essere ok sbigottimento che all'inizio va bene, però poi dovevi articolare e dire questo non è mai successo, Ratzinger un uomo di un'elevatura, insomma, e quindi poi decidere tutte le sviolinate varie, però è fondamentale come decidi di far uscire perché poi le colpe fondamentali ricadono sempre su chi gestisce e quindi la difficoltà principale è studiare il personaggio, studiare e capire quanto può funzionare. Ora, per esempio, stasera vi dicevo la cosa di Renzi, è stata la bocca di tutti, ma lui è stato bravissimo ad anticipare le critiche, lui è uscito con un'intervista ieri o l'altro ieri sul Corriere, cioè è stato fantastico perché diceva perché io non devo andare dal pubblico di Maria De Filippi, voi offendete metà dell'Italia e anche di più, cioè tu li dici. E la scelta mediatica di uscire due giorni prima del sabato di stasera è stata perfetta, cioè io trovo Renzi in questa fase anche del fallimento di Bersani, silenzio di Renzi non è uscito, cioè studiato metodicamente, silenzio perché tu ti devi stare zitto anche se stai lì che ridi profondamente di quello che è successo, cioè ridi, era l'unico felice la notte delle elezioni. Dopodiché decidi di uscire pian piano e di dire anche no, ma io adesso devo sostenere Bersani e vedere che cosa succede, ma io sono qua ed esce in continuazione su Twitter con una potenza incredibile di comunicazione e lì dovete, per questo io ritorno sempre su Twitter, esce quotidianamente con quello che lui fa a Firenze, ho dato più soldi alle scuole, ecco come funzionano le scuole, retweet terribili che arrivano pure a Obama secondo me, oppure ogni giorno dice la viabilità a Firenze è migliorata, wow, e quindi dice quello che lui riesce a fare a livello locale, io funziono, io sto lavorando, poi in realtà sta lavorando ad altro, perché fa un'intervista che è totalmente politica, decide di fare una scelta mediatica molto rischiosa, perché insomma, non è che tu, ho capito che ti presti come personaggio, però tu ti metti la giacchetta di Fonsi in questo periodo elettorale, vai da Maria De Filippi, insomma, non è proprio, cioè bisogna vedere che cosa, sì, c'è coraggio, nel senso che io quando l'ho saputo ho detto cacchio, ma te vedi che se brucia, l'unico che ci è rimasto molto, si brucia da Maria De Filippi a fare il cretino, quando ho letto l'intervista, per il momento io ho pensato, è veramente, ha giustificato con anche un particolare eleganza quello che andrà a fare stasera, insomma, non so che cosa succederà nello specifico, però, vabbè, comunque ha scelto, oppure decidere di andare da Fabio Fazio la domenica, quando casomai il giorno dopo succede una cosa, tu l'architetti tutta con Fabio Fazio e lei è il portavoce che è bravo a dire, forse questo è il momento di andare da un pubblico come quello di Fabio Fazio la domenica sera e non quello di porta a porta delle 11, cioè tu devi studiare esattamente tutti i talk in maniera abbastanza ponderata e decidere rispetto alle situazioni mediatiche che succedono, decidi come inserirti, così come, ritornando, voi mi chiedevate l'altra volta il caso del tunnel, del comunicato sbagliato del Ministero dell'Istruzione, lì è stato il caso di un portavoce saltato per, non tanto per il comunicato sbagliato, quanto per la risposta data sbagliata, quindi devi essere bravissimo anche a decidere quando tocca smorzare i toni e scherzare su un episodio perché poi ti criticano, cacchio è scherzato su una cosa gravissima, oppure decidere di essere sobrio, cioè tutta una cosa che decidi tu, perché in quel momento, cioè chi gestisci è affidato alle tue mani. Nel caso, per esempio, concreto, così capite meglio del Ministero dell'Istruzione, per esempio, il portavoce ha gestito la linea politica del Ministro, quindi le dichiarazioni da fare a seconda delle vicende anche politiche che succedevano. Il capo ufficio stampa ha gestito tutta la macchina del Ministero, quindi il concorso della scuola, cioè le cose concrete che fa il Ministero. A volte, spessissimo, la figura del portavoce e il capo ufficio stampa si fondono, ma è fondamentale sapere che il portavoce è detta la linea politica, quindi decide esattamente che cosa farti uscire dalla bocca nel momento in cui succede un fatto, ma semplicemente perché tra il portavoce è l'unico che si crea appunto quel feeling tale o quel rapporto tale per cui sa che cosa sta costruendo, per cui sa già che è inutile andare al programma La Zanzara di Cruciani su Radio 24 perché ti prendi delle legnate se non hai quell'ironia anche per rispondere a delle cose, oppure decidi che invece è il personaggio giusto per andare dalla zanzara. Quindi è tutto un gioco di profonde conoscenze del portavoce, ma anche di divertimento puro nel momento in cui hai un personaggio che, diciamo, spacca in qualche modo. Come poi, per esempio, ho apprezzato molto durante quest'anno il Ministro Barca, che è stato il più social di tutti i ministri che ho conosciuto, è il più diretto, che ha quell'interazione, per esempio su Twitter, con la gente che ha creato un dibattito su quello che ha fatto, è incredibile, cosa che non ha fatto. Obama ha vinto anche in questa scelta di Twitter perché lui in primis faceva i cosiddetti town hall con la gente, con gli utenti che lo seguivano su Twitter e chi twittava sapeva che c'era lui perché c'era una diretta streaming. Poi lì vedi che veramente sulle domande di economia e di politica è Obama che ti risponde. Quindi ha capito che c'è un muro che bisogna togliere, che è quello della conferenza stampa. Cioè lui ha fatto wow, sì, vabbè, lasciamo perdere, però ha fatto i town hall. Per esempio, è una delle cose che principalmente ho imparato dai due di Obama. Cioè il fatto che non dovete farli incontrare per forza con i media, cioè fateli incontrare con le persone. Lui deve interfacciarsi, la gente non è vero che è scema che poi non ti segue. Ho capito che Obama ha un altro appeal, però se tu vedi in diretta streaming che c'è Obama che ti sta rispondendo e quindi tu sei portato a fargli delle domande. E lì ha creato un'interazione che gli ha triplicato i follower, insomma, e poi tutta la crescita che ha avuto. Questo è molto complicato, nel senso che a volte, quello che ho visto io dalla mia esperienza, ti è imposto, se sei un politico, ti è imposto dal partito. Proprio perché tu devi portare avanti in un certo senso, per esempio, in un ministro come la Gelmini, era fondamentale che ci fosse uno del PDL a guidarla perché non è stata come il ministro Profumo che aveva solo l'obiettivo della scuola universale della ricerca, lì era un obiettivo politico e quindi le dichiarazioni erano esclusivamente politiche. E quindi facevi un lavoro che deve seguire la linea del partito, quindi non è che ti viene pinco vallo, che è ok, è un bravissimo giornalista, però deve avere anche una fede rispetto alla cosa che stai seguendo. E quindi di solito sono quasi tutte nomine esclusivamente partitiche e politiche. Tant'è che tu ti devi ritrovare, cioè io mi sono ritrovata in questa macchina a gestire, per esempio, lei ed è stato difficilissimo gestire il caso Rubi, scoppia il caso Rubi. Chiedono a Gelmini di andare a porta a porta in difesa di Berlusconi. Tu devi scrivere la difesa del... quello che dice. Sì, praticamente sì. Quindi da una parte è divertente. Oppure io che non la pensavo allo stesso modo... Appunto. Quindi è stato difficilissimo, per esempio, io ce l'ho conservato e proprio come ricordo, la difesa del caso Rubi è una cosa che è rimasta impressa, perché tu... cioè, riuscire a inventarti a un'uscita che fosse... no, cioè, di fronte a uno che ti diceva la ripeto di Mubarak, che tu vai là e dici, ma io che te... cioè, che te devo scrivere? Cioè, è impossibile. E quindi quello è rimasto a un momento di altissimo livello proprio lavorativo e creativo. Cioè, veramente lì ho detto, però, cioè, complimenti alla fantasia da sola, cioè, mentre piangevo che devo fare... sì... ed è assolutamente... sì, sì, sì... Infatti con lui è un... è un lavoro... assolutamente, è un lavoro diverso, per esempio. Lì le scelte sono... però, eh... ehm... uno come Monti non pensa che se parla con il Tg1 è meglio che con il Tg3... non c'hai... perché, naturalmente, tu stai facendo altri cavoli, quindi, cioè, se sei tu che devi dire... no, in questo momento è fondamentale che tu parli agli italiani, quindi devi andare sul Tg1, però sui contenuti tu puoi dettarli, cioè, lui ce li ha, assolutamente, ce li ha, assolutamente, per cui poi devi anche studiare chi non ha i contenuti, chi ha bisogno, invece, come Monti, del quid, cioè, nel senso che Monti ha i contenuti, però si addormenta mentre li racconta i contenuti, e quindi lì tu devi stare che non li puoi pizzicare da nessuna parte per svegliarlo, però gli puoi dire, eh, allora, facciamo che abbiamo un... quindici secondi di dichiarazione quindici secondi, puoi dire questo, perché questo è quello che vogliono sapere gli altri perché sennò lui si perde, e però devi essere tu che sai che hai quindici secondi, perché lui, se no, gli fa l'intervista e finisce che quello, il giornalista ti guarda e fa, ah ah, ah ah, è secato tutto e quindi tu non hai raggiunto l'obiettivo, quel poveraccio si dispererà per trovare la notizia in mezz'ora di intervista, allora, fai prima che tu dici, allora, il mio fa, quindici secondi c'hai quindici secondi devi di questo, ma non perché glielo dici tu, perché, lui lo sa bene, però devi tu hai i tempi comunicativi, lui non ce li ha, quindi capisci la differenza di ogni personaggio come è complicato, e così come a livello locale, cioè, può essere fondamentale che un sindaco si faccia seguire a livello comunicativo, perché secondo me è fondamentale per chi l'ha sostenuto capire che cosa fa, che può essere anche semplicemente non avere il portavoce con la dichiarazione ma avere l'ufficio stampa che ti dice, oggi ho fatto questo, sono andato lì, un po' come sta facendo Renzi su Firenze, è fighissimo, perché non fallo a livello locale? Sarebbe bellissimo sapere che oggi sei andato su un cantiere, hai promesso che troverai una soluzione ad azienda che sta al cantiere che sta per chiudere, oggi ho avuto questa riunione con questi cioè, l'open in tutto e per tutto, comunicativo, funzionerebbe tantissimo per un politico a livello locale, cioè, è che si capisce ancora poco, ma veramente sarebbe un... e non hai bisogno veramente lì, cioè, uno che ti ragioni un attimo a livello comunicativo, però sarebbe fighissimo se il sindaco di San Giovanni Rotondo facesse sapere ogni giorno che cosa ha fatto oppure in una riunione che cosa succede, oppure avere, per esempio, c'è Andrea Sarubi che è un deputato del PD che si è inventato l'open camera, la camera dei deputati, su Twitter lui, lui sta lì e twitta, ora sta parlando quello, per esempio, una delle curiosità principali che avevo io quando si è creato questo, cioè, post elezioni, dove cavolo si dovevano sedere i grillini? cioè, me lo chiedevo da tutto il periodo delle elezioni, ma dove cacchio si siederanno i grillini? cioè, Andrea Sarubi, il giorno che sono andati lì, uno dei primi tweet è stato i grillini si stanno occupando la parte alta, dove un tempo c'era la Lega, io ho detto, oh, cioè, mi ha dato la notizia principale, però tu lo sei dall'interno, e tutti i giornalisti hanno seguito a vanvera lui su Twitter, e quindi lui si è inventato l'open camera e la si è inventata lui, ed è un metodo che tu, se tutti i giorni vuoi seguire quello che succede basta che ti metti su Twitter e segui lui eh, assolutamente oppure mai, quando fai le dichiarazioni, cioè, devi fare una dichiarazione televisiva se stai così, oh, ma chi sei? no, stai così, allora decidi poi, mettiamo le bandiere, mettiamo, per esempio, con Gelmini è stato divertentissimo gestire tutta la parte di lei, mamma, no, di lei che si sposa quindi il matrimonio, divertentissimo a livello comunicativo, curioso, di lei che diventa mamma e di lei che si porta la fila a ministero, quello è stato, quello per esempio è una cosa che ho fatto io, mi sono divertita tantissimo, perché dicevo, ma cavolo, questo, secondo me di lei sono stati fatti degli errori comunicativi importanti, perché lei non è assolutamente eh, noiosa, non è scocciata, non è una rompiscata, non è quella che ha questo guizzo antipatico gliel'ha costruito, per esempio, il portavoce, no, per difenderti da tutti devi essere una stronza così quale delle tante aspetta, tanto possiamo posso spegnere il microfono facciamo un po' come ci pare adesso chiudo con con una cosa, che la comunicazione è fondamentale ed è una parte importante della nostra della nostra vita, della società quindi spero innanzitutto di avervi fatto capire che i meccanismi sono più complicati e complessi di quelli che noi purtroppo vediamo e leggiamo quotidianamente a parte questo siate piuttosto comunicatori con il vostro vicino di banco, con la vostra famiglia con il vostro fidanzato, con la vostra madre che comunicatori perché di lì parte la vera comunicazione perché la cosa più bella che ci possa essere comunicare prima di tutto con con chi c'è intorno poi di lì nasce il vero comunicatore insomma, da questo punto di vista e come dice Renzi, non perdete tempo perché il tempo è prezioso non perdiamo nemmeno noi quindi cerchiamo di fare sempre cose da questo punto di vista positive che ci possono insomma arricchire come sono stati questi laboratori credo insomma da questo punto di vista e vi ringrazio tantissimo di tutto per l'attenzione e tutto quanto ok grazie a tutti grazie a tutti